ciao amici oggi è il primo di aprile 2018 è anche la ricorrenza della della pasqua quindi auguri faccio un giro nel parco della villa gianetti di saronno e cosa mi ritrovo un gruppetto di le pista nuda però pazzesco tanti auguri ancora a saronno villa gianetti e buona buon appetito